Abuelo, e voi di aca me ves? Apparamelo un momentico ahi, per favore. Erano tutti i campi coltivati da tutte le persone con tutti i muretti in pietra. Bello, bello qui. Erano tutti i campi coltivati di 5 kg di caramello. I primi caramelli che abbiamo mangiato sono stati quelli. Sento ancora il sapore di quelli caramelli. E le arriva Rosina con gli occhi bianchi e neri. E le arriva Rosina con il marginato. Sento che io gli occhi e vedo paesi che non si esistono. Buon giovane quando siete cecini sono stati. Per la violenza proverte e leicamente,